Andrea Pinna e Roberto Bertolini, ovvero gli antipodi. Sono loro i vincitori della quarta edizione di Pechino Express al termine di una finale ricca di colpi di scena, tra cocktail, momenti karaoke, spiagge, mostri, glutei dipinti, tassisti permalosi e un prato verde da leggenda come traguardo. Dietro di loro, nell'ordine, gli espatriati, le persiane e, giù dal podio, le professoresse. Appuntamento alla prossima edizione, ma sarà sempre condotta da Costantino della Gerardesca. Vi lasciamo con questo quesito.